Siamo in piazza Marconi a Sciacca, proprio dentro la cosiddetta Porta Palermo, una delle porte che racchiude il centro storico di Sciacca, la prima piazza che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita per chi viene in città. In realtà qui regna la confusione, un parcheggio di una ventina di auto molto caotico, confuso e sicuramente indisciplinato, dall'altro lato tante attività economiche che cercano di sopravvivere tra quello che un tempo invece era una piazza molto più vivace, in tempo di Covid, di crisi economica senza precedenti, c'è chi come Salvatore Monte pensa che bisognerebbe fare qualcosa per abbellire proprio questa piazza. Lo abbiamo chiesto a chi in questa piazza vive e lavora. Corsio Labella, lei è titolare di un bar qui proprio in piazza Marconi, oggi Salvatore Monte in un post su Facebook ha detto che proprio questa piazza ha bisogno di un restyling, vediamo insomma in questo momento ci sono le macchine parcheggiate ovunque, non si capisce niente, dice è la porta d'ingresso al centro storico di Sciacca. Lei cosa ne pensa? Sì, sappiamo benissimo che è da tanto tempo che mando foto al comune, ai vigili ma non c'è rimedio di niente, come vedete macchine parcheggiate ovunque, la gente viene ma non può parcheggiare neanche per prendersi un caffè, per andare da un altro commerciante, spazzatura ovunque oltre danno la beffa che voi sapete che mi è stato sequestrato anche il gazebo e ancora non si è capito il motivo per quale sia avvenuto questo problema. Secondo lei ad esempio togliere questo parcheggio che alla fine non ha neanche il disco orario, quindi c'è chi parcheggia e lascia la macchina qui per giorni e giorni e giorni, quindi non possono fruire, non è neanche una cosa temporanea, alla fine sono soltanto 20 posti auto, non cambierebbe neanche nell'ambito della necessità di parcheggio a Sciacca. Come hai detto tu benissimo poco fa, questa è la porta d'ingresso, è la porta principale di Sciacca, sarebbe un fiore all'occhiello vedere la piazzetta tutta sistemata, bellissima, pavimentata, sarebbe tutta un'altra cosa per il paese di Sciacca. Come dicevo poco fa, come ben vedete non si capisce niente e non sappiamo come fare, tra la spazzatura, tra l'inciviltà delle persone è una cosa impossibile. Dal bar siamo passati al tabacchi di piazza Marconi, voi cosa ne pensate di questa piazza in questa situazione? Non è il massimo della decenza, perché intanto io dico che se è regolamentato meglio questo parcheggio mi è utile, perché sarei ipocrita a dire che non mi aiuta tanto questo parcheggio, solo che spesso capita che le macchine sono messe male, non tengono conto della segnaletica. Abbiamo chiesto più volte a questa amministrazione e anche alle precedenti di sistemarla anche da un punto di vista logistico, perché praticamente qui dovrebbe essere un'isola pedonale e invece puntualmente è sempre piena e occupata da macchine messe male. Molto spesso questa situazione a me principalmente ha creato notevoli danni, danni perché la macchina messa male qui costringe i mezzi pesanti a spostarsi tutta quella parte e io da due anni che non posso utilizzare il balcone della cucina dell'appartamento sopra la tabaccheria, perché hanno tolto, hanno divelto completamente la balata di marmo. Per il resto dico che non sarei d'accordo a portare questo parcheggio a pagamento così come quello fuori la Porta Palermo, perché penso che non tutti i posti possono essere a pagamento. La situazione è quella che è, il periodo è quello che è, e caricare ancora sulle tasche dei contribuenti penso sia un po' più, non mi sembra giusto. Per quanto riguarda il decoro, ad esempio è una bella piazza alla fine? Puede essere in realtà curata meglio, spesso ci sono cassonette dell'immondizia, prima c'erano anche se ora non ci sono, però purtroppo questo non dipende dal comune ma dipende dall'inciviltà spesso della gente. Certo se ci fossero piante, una migliore illuminazione non dispiacerebbe. Capisco che le macchine nel contesto forse non stanno molto bene, però io dico che il parcheggio qui mi fa comodo, sarei ipocrita a dire il contrario, però mi rimetto alla decisione dell'amministrazione, purché tengano conto delle esigenze di tutti. Attività in piazza Marconi in realtà veramente ce ne sono un pochine, negli ultimi tempi stanno scomparendo, però questa è la piazza ingresso del centro storico di Sciacca, si potrebbe fare qualcosa per migliorare? Allora sicuramente se fosse più abbellita con qualche panchina, piante... Magari non la spazzatura c'è? Non la spazzatura al centro sicuramente, sarebbe sicuramente più gradevole. Io devo dire la verità, il parcheggio nella mia attività mi fa comodo, quindi insomma ci vogliono pure le soluzioni. Il parcheggio è un po' caotico? Il parcheggio è caotico perché è così, è fatto alla meglio meglio, per come viene uno parcheggia. Magari si potrebbe anche disciplinare un tantino meglio? Sicuramente, dovrebbe essere più controllato in modo che i parcheggi si liberano con frequenza, visto che si fosse già qualcuno la mattina e poi magari la sera, questo è il discorso. Quindi essendo che c'è... Da quanto tempo è lei qui? Io personalmente da più di vent'anni, mio padre da più di cinquanta. Quindi questo posto lo conosce bene? Sì, benissimo, ci sono nato, cresciuto e quindi... E com'è cambiata negli anni? Ma forse in peggio, forse in peggio, forse in peggio perché insomma c'è questa situazione come dicevi della spazzatura al centro, un parcheggio completamente selvaggio, insomma. Purtroppo siamo in una situazione un po' particolare. Purtroppo siamo in una situazione un po' particolare.